In riferimento all'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno sull'ospice di Eboli, con una presunta dose letale somministrata da un medico ore domiciliare ed un 28enne di battipaglia, deceduto il 18 gennaio scorso, il commissario straordinario dottore Mario Iervolino, con una nota diramata agli organi di stampa, esprime la più piena fiducia nell'operato della magistratura alla quale l'Aslo Salerno continua ad assicurare la massima collaborazione, come già fatto nel corso di questa inchiesta. In merito alle conclusioni dell'indagine, sottolinea l'Aslo Salerno comunica che adotterà tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenziali di propria competenza.